Un programma davvero densissimo, ancora dobbiamo chiuderlo al 100%, però già quello che abbiamo presentato al Maxi a Roma è un programma molto denso, molto bello e anche con alcuni momenti di grande livello culturale. Quindi c'è molta tensione per l'avvicinarci di questo 2024, inizieremo con un bellissimo capodanno con Radio 2, con la Pesce di Martino, con Lundini, quindi sarà già una partenza importante e poi stiamo lavorando molto per l'inaugurazione ufficiale con il Presidente della Repubblica il 20 gennaio, in quale invitiamo tutti i cittadini già da adesso, perché abbiamo deciso di farlo al Vitri Frigo Arena per non rinchiudere l'inaugurazione e non renderla esclusiva solo alle autorità. Se l'avessimo fatto in un teatro sarebbe rimasto quasi esclusivo per le autorità, invece in questo caso sarà un'inaugurazione popolare, abbiamo invitato le scuole della provincia e i cittadini che vorranno potranno prenotarsi, e ovviamente l'ingresso è gratuito, però ovviamente essendoci problemi di sicurezza abbiamo bisogno degli nominativi e insomma nei prossimi giorni lanceremo anche questa campagna perché il 20 gennaio vogliamo aprire con un grande evento popolare, per fare questo abbiamo bisogno delle persone che come è stato per la pizza 2024, la pizza Rossini, lo scorso mese di settembre le persone saranno protagoniste anche dell'inaugurazione, quindi non saranno soltanto spettatori ma stiamo organizzando un'inaugurazione nelle quali le persone che verranno saranno protagonisti loro stesse dell'inaugurazione stessa, quindi insomma state attenti perché presto inizieranno le prenotazioni e avremo poi nel pomeriggio una grande giornata di festa con Max Gazet, concerto gratuito, poi con Casa Dei, ugualmente sempre spettacolo gratuito e i giovani organizzatori di feste di Pesaro stanno organizzando una festa serale notturna per i più giovani con grandi artisti, quindi sarà davvero una giornata particolare da segnare già adesso in agenda sabato 20 gennaio.